Utilizzavano i pacchi alimentari destinati ai non indigenti a fini di lucro in alcune strutture convenzionate. Per quattro suori e terziari francescane figlie di Sant'Elisabetta, il PM Giulia Maggiore ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa ai danni della comunità europea. La notizia è stata rivelata dal TGR Toscana di Rai 3. La vicenda nasce con un controllo fiscale della Guardia di Finanza di Arezzo nel corso del quale era stato trovato il cibo ottenuto con i fondi europei per gli aiuti agli indigenti. Sono state rinvenute anche confezioni aperte come di utilizzo quotidiano. L'ipotesi accusatoria è presto fatta. Invece che finire ai più bisognosi, quel cibo veniva servito agli ospiti dell'RSA. Le suori infatti gestiscono alcune strutture accreditate dal sistema sanitario nazionale che si occupano di anziani non autosufficienti. Una suora ai microfoni della Rai ha negato ogni addebito definendo le accuse una falsità.